Bene, altra cosa da sapere per guadagnare online, molto importante, è quella di creare una nicchia commerciale. Cioè, non funziona un business su internet se tu crei un qualcosa di generale o se parli di tutto. Non riuscirei mai a vendere nulla. La cosa importante per creare un business o un'attività che funzioni è quella di creare, di basarla esattamente su quelle che sono le nicchie commerciali. Nel nostro caso abbiamo scelto la nicchia della Croazia che ha a sua volta tantissime sottonicchie, quindi basta pensare alle varie città, alle varie tipologie di appartamenti che si possono trovare, parlando di alberghi, parlando di tutto. Quindi la cosa importante è individuare bene qual è la nicchia sulla quale tu ti vuoi specializzare. Quindi dovrai imparare qualcosa di questa nicchia. È come se io volessi restringere il campo con un mirino che va stringendosi sull'obiettivo. È molto importante questo, non è possibile sviluppare un business online senza guardare qual è il tipo di nicchia a cui vogliamo rivolgersi. Possiamo fare un esempio fuori dal tema di cui stiamo trattando in questo momento. Potremmo quindi parlare ad esempio di, basti pensare a come dimagrire, potrebbe essere una ricerca all'interno di un motore di ricerca, quindi quello che potrebbe essere una nicchia già predisposta, già fatta, e invece quello che potrebbe essere la parola per esempio dimagrire con l'ipnosi. È un qualcosa che rappresenta la sottonicchia, cioè proprio qualcosa che va ancora più stringendosi. E questo è importante perché sono le nicchie che sono paganti, e non le parole generiche o le vaste ricerche. Quindi la cosa importante è individuare qualcosa di cui io voglio parlare, e possibilmente qualcosa di cui gli altri non stanno parlando in questo momento. Quindi c'è sempre un argomento mancante, l'importante è trovare qual è. Le nicchie sono le cose, quei piccoli fuochi su internet che sono veramente paganti. Quindi è su quello che bisogna concentrarsi. Vediamo nel prossimo filmato come fare. Come scegliere una nicchia di mercato La scelta di una nicchia di mercato è un processo molte volte complesso, e che dipende da molti fattori, non soltanto associati all'autore, ma anche ai mezzi e al mercato. Spesso ricevo mail di lettori che mi domandano qual è il miglior sistema per scegliere una nicchia di mercato redditizia, e quale caratteristica tipica deve avere la nicchia e dove si trovano quei fattori più forti che portano ad un mercato vincente. Il che mi porta a credere che molti blogger e webmaster avvertono ancora difficoltà nel riflettere e decidere quali sono i migliori mercati nei quali investire. Proprio come fatto nei vari precedenti articoli sul mio blog, adesso vediamo di analizzare da un punto di vista semplice alcuni fattori e domande da porsi prima di iniziare un nuovo progetto commerciale. Come prima cosa, sceglieremo un argomento di vostro interesse, quindi deve avere certamente un interesse importante per qualcosa per il quale ti vuoi esprimere, per il quale vuoi pubblicizzare. Per chi scrive quotidianamente in più blog, la domanda principale che dovrà porsi è Se vi interessa sapere qual è l'argomento al quale riuscirete a tenere testa, dovrete pensarci prima di iniziare il vostro blog. E quindi, se siete casualmente reticenti nel rispondere a questa domanda, la cosa migliore sarebbe quella di cambiare immediatamente l'argomento del vostro blog. E quindi cercate qualcosa che si identifichi con voi stessi e con i vostri gusti e che, diciamo, adattatelo ad uno stile più commerciale e o che vada incontro ai vostri obiettivi. Inoltre, tenete in mente che il vostro pubblico si accorge rapidamente se siete o meno appassionati di quanto state scrivendo o state facendo e col tempo, se non lo siete, se ne accorgerà e smetterà di seguirvi. Quindi è molto importante che l'argomento che scegliate per una nicchia sia comunque collimante con un grosso vostro interesse. È un argomento popolare? L'argomento di cui stiamo parlando? Di cui hai voglia di parlare e pubblicizzare? Quando si inizia un blog di qualsiasi tipo, sia il principale obiettivo è quello di possedere il massimo dei propri lettori, in maniera proprio totale. Ed è vero che non è necessario scrivere per la globalità dei lettori, ma è importante ricordarsi di scegliere una nicchia di mercato che possieda una buona audience di base. Perché nel caso contrario la vostra crescita sarà molto lenta. Quindi analizzate bene il mercato nel quale volete entrare, analizzate la concorrenza e verificate fino a che punto esiste una massa di gruppo di lettori interessati all'argomento scelto. Se volete scrivere per esempio sulla nanotecnologia applicata ai circuiti elettronici, è probabile che avrete un'audience ridotta. Il che inevitabilmente vi condurrà verso una crescita parecchio lenta. Se non è questo che volete, quindi in quel caso cambiate argomento. Quindi chiaramente gli argomenti devono essere collimanti con la popolarità, quindi l'interesse della gente. Qual è il livello di competizione che c'è all'interno di questa nicchia commerciale o della nicchia commerciale che tu vuoi scegliere? Dai concorrenti si impara sempre qualcosa, non c'è dubbio, ma è anche estremamente importante analizzare la competizione prima di, diciamo, entrarvi completamente. Più popolare l'argomento, maggiori saranno le difficoltà a livello di competizione. Anche questo è da tenere presente. Quindi entrate nella blogosfera per parlare di un argomento soltanto perché è molto dibattuto, potrebbe risultare una scelta del tutto errata. È vero che pare difficile portare, diciamo, novità al mercato perché gli argomenti caldi sono pieni e la concorrenza è praticamente aggressiva. Ma è anche vero che non avete bisogno di trattare gli stessi temi. A volte nicchie di mercato più piccole si rivelano più interessanti e redditizie nel tempo. Immaginate per esempio un blog che tratta di una serie televisiva. Giustamente alla conclusione, in questa nicchia c'è parecchia concorrenza. Ma se da questa estraete soltanto una serie televisiva, quindi una sola, e quindi vi concentrate su quella, il mercato cambia aspetto. Quindi le nicchie delle nicchie o le sottonicchie sono in genere ottime sfide. Punto 4. Esistono modi per fare soldi con questi argomenti? Ho sempre detto che esistono moltissimi sistemi per fare soldi con i blog e che i blogger non dovrebbero limitarsi a quelle forme che meglio conoscono, diciamo, e che funzionano istantaneamente. Esistono sicuramente molti altri sistemi che funzionano nel tempo e che possono e devono essere trattati. Certamente cercate di verificare se esistono programmi di affiliazione per il vostro argomento, metodi di monetizzazione attraverso il valore della pubblicità, e quindi le vendite che vengono fatte e distribuite all'interno del vostro blog. Se vi rendete conto che la nicchia scelta non è facile da monetizzare, allora in quel caso sarebbe meglio cambiare direzione. Scegliete finalmente la nicchia. Dopo aver fatto tutte queste analisi, andiamo a vedere qual è la nicchia da scegliere. Come sceglierla? La nicchia ideale è sicuramente quella che fa guadagnare molto, che è di vostro interesse e che non ha grande concorrenza e competitività. Sembra facile, ma non lo è. E per questo si rende necessario che sappiate adattarvi a lavorare in questo senso. Il segreto del successo è sempre realizzato alla passione e dedizione. Per questo motivo, indipendentemente da tutti i fattori estranei, se desiderate davvero un successo, dovete tenere presente questi due fattori. Quindi, la scelta della nicchia non deve essere qualcosa di troppo chiacchierato, ma nemmeno che abbia una concorrenza tra inserzionisti e blog molto esagerata, altrimenti sarà molto più difficile arrivare in vetta. Adesso provate a scegliere una nicchia di mercato che riunisca tutte le caratteristiche elencate e non dimenticate che è importante essere appassionati per quanto state facendo. Nel caso contrario commesterete l'errore di scrivere un argomento che non dominate, che non è vostro e che non vi piace. Quindi trasmettendo esattamente quest'immagine ai vostri lettori, il che non è certamente una cosa, da un punto di vista commerciale, sicuramente proficua. Il terzo passaggio che invece serve e occorre per creare un business online è proprio quello di reperire il reperimento di un software di gestione sito. Perché chiaramente quello che andrai a fare dovrai farlo sul serio, dovrai farlo seriamente, quindi avrai bisogno di una gestione da un certo punto di vista di un software che sia professionale e che non sia il classico sito arrangiato da qualche parte. Quindi la cosa importante adesso è reperire quali sono i servizi a pagamento o i servizi gratuiti, ce ne sono veramente tanti, tra i quali posso ricordarti il tervista o altrimenti Gindo. Ce ne sono veramente tante che non siamo qui a delencare, quindi la prima cosa che adesso in questo momento invece andiamo a fare è quella di reperire esattamente quella software che noi interessa per creare un sito professionale, in modo da imparare come gestirlo, come strutturarlo e come inserirlo all'interno della rete in una certa maniera, in modo che sia più navigabile e più semplice per gli utenti che atterreranno su questo sito. Vediamo come. Vuoi promuovere la tua attività online e hai bisogno di un sito web intuitivo da gestire ed efficace? Hai bisogno di Gimdo Pro? Vai al tuo sito. E clicca su Accesso. Inserisci la tua password e comincia subito a editare i contenuti. In un clic puoi modificare i testi. Aggiungere contenuti come ad esempio una galleria fotografica. Una mappa di Google, documenti da scaricare per i tuoi clienti. Puoi mettere una password a pagina del tuo sito. Modificare i link di navigazione, creando quante pagine e sottopagine desideri, senza limiti. Il design di Gimdo Pro è originale e personalizzabile. Clicca sul layout che preferisci e vedi se ti piace. Modifica la foto dell'Eda, scegliendo una delle nostre proposte oppure caricando una tua foto personale. Inserisci il titolo e il logo della tua ditta. Ordina oggi stesso il tuo sito Gimdo Pro e approfitta delle straordinarie funzioni. Proprio dominio, proprio account email, sistema di newsletter e sito senza pubblicità. Gimdo, il modo più facile di creare il tuo sito web.